Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, Il mistero del salto della lepre, dell'episodio numero 10, catturata dagli alieni. Buon ascolto. Durante la notte, Jack, la lepre, vide fuori dalla sua tana delle luci misteriose. Impossibile che erano ritornati i cacciatori. Il bosco di Bonassola ora è protetto. Di cosa potrebbe trattarsi? Si domandò Jack. Incuriosito, uscì dalla tana, vedendo una strana navicella volante, che illuminandolo lo risucchiò. Una volta che Jack fu catturato, egli venne inserito in una capsula luminescente, prigioniero dagli alieni. Icarus, il capo alieno, disse alla lepre. Piccolo amico, io e la mia squadra non vogliamo farti del male. Noi alieni abbiamo bisogno del tuo aiuto. Rimanendo inchiuso, infatti, potremmo assumere le sembianze di una lepre umanoide, suscitando curiosità alle persone. Devi sapere che gli umani sono attirati dal mistero e dalle leggende, perciò per suscitare loro grandi interesse «Abbiamo bisogno di te!» Tuttavia Jack non sopportava di essere inchiuso in una capsula. Perciò, infastidito, iniziò ad agitarsi, scalciando e zigando, per paura di essere cucinato. Icarus, notando la furia della lepre, non avendo alternative, ordinò i suoi sudditi di sedarla, sperando che sarebbe fidata di loro. Questo è Jack e gli alieni. Bene, vi ringrazio dell'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie, alla prossima. Ciao da Simone. Ciao! Ciao!